Un legame profondo, la supplica al Patriarca di Venezia per il ritorno delle spoglie di Santa Lucia. Nuova missiva del farmacista Francesco Candelari per sensibilizzare le istituzioni per il ritorno definitivo delle spoglie di Santa Lucia a Siracusa, sua città natale. Nel corso dei secoli non è mai venuta meno l'aspirazione di noi siracusani a poter riabbracciare per sempre il corpo della nostra Santa, ma è in vano. Candelari, promotore di raccolte firme a marzo di quest'anno da consegnare al sindaco, insieme a un determinato manipolo dei siracusani a giugno, scrive al Codiano Libertà Sicilia in merito alle rimostranze contro la posizione dell'Arcivesco, orreo di non fare gli interessi della città. Quando qualche giorno fa, si legge nella nota emessa a giugno da Candelari, il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato un'ovazione con la quale si chiedeva il ritorno definitivo di Santa Lucia in città, il primo a essere felice di questa delibera è stato il farmacista Francesco Candelari, coordinatore del gruppo, il quale da sette anni iscrive nel trattamento al Santo Padre ai più alti vertici stazionali per una intercessione con il potente patriarcato di Venezia. Poi la doccia fredda, all'iniziativa del Consiglio Comunale di Siracusa, ha risposto all'Arci di Ocesi con un comunicato assurdo quasi delirante. Successivamente a luglio, Francesco Candelari invia una lettera aperta al sindaco di Venezia Brugnano per il ritorno della nostra patrona. Fino ad oggi scrive, nonostante numerose richieste e un ultimo tentativo compiuto nell'anno 2006, tali spoglie ci sono sempre state rifiutate. Infine un altro appello supplica rivolto al patriarca di Venezia per il ritorno di Santa Lucia a Siracusa. Nella missiva indirizzata a Monsignor Francesco Moraglia, Candelari con grande rispetto e umiltà chiede di considerare la possibilità di restituire Santa Lucia a Siracusani. Questa richiesta non è solo un desiderio di riportare a casa un simbolo sacro, ma anche un atto di restauro del legame profondo tra la nostra città e la nostra santa. La sua restituzione sarebbe un segno di riconciliazione e di amore verso la nostra tradizione cristiana e culturale. Assicurandolo che la richiesta è animata da uno spirito di devozione e rispetto e che il ritorno della reliquia a Siracusa sarebbe accolto con immensa gratitudine e gioia della nostra comunità. Candelari conclude confidando nella benevolenza e nella comprensione dell'arcivesco e prega affinché questa supplica possa trovare ascolto presso il cuore della Chiesa. Grazie